Allora Tortù può ripartire, nelle vesti di Playmaker fino in fondo, Lollo Tortù, altri due. Tortù a recuperare, attenzione, può arrivare lo schiaccione. Tino in fondo, passaggio per Tortù, a solito il contatto, realizza Tortù. Porti ancora dalla distanza, Tortù a rimbalzo, fa valere i suoi centimetri. Grande difesa, ancora di Salerno, Tortù, Berleggio, è sempre lui. Balzo però, di Tortù. E butta dentro, buona pista, buona anche il canetto, torna a fare punti Lorenzo. Bello lo scarico nell'angolo posto, Berleggio, appoggia di mano sinistra, Lorenzo c'è a dentro. Può penetrare, poi va fino in fondo, segna e subisce il fallo. Magia, Quagino, Lorenzo, Tortù. Falleggia dentro la schiena, la difesa di Boreggio, Tortù attacca a porte e segna anche i suoi punti. Lo prendo il Tortù dopo la rimessa. Salute in contatto, Alisa, altri due, per l'olto Tortù. Quel rimbalzo di un ottimo Tortù che non fa mancare mai la sua presenza al Togarezzo. Deve fare qualcosa Salerno, si affida a uno scatenato Tortù. Tortù, liberissimo, può andare indistruppato verso il canetto. Tortù, fino in fondo, in eleganza, realizza. Il canetto è un canetto importantissimo. Tantissimo!